Bari salzano, è riconfiusa la palla ai mani, ma la passa indietro, il meglio piazzato è Vialli, Vialli, colpo di campo per Frenzis, 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 cross di Frenzis, e giro e gol di Frenzis, la Sampdoria in vantaggio, ha segnato Frenzis al ventiquattresimo minuto. Frenzis al vento di Frenzis, la Sampdoria in vantaggio, la Sampdoria in vantaggio, la Sampdoria in vantaggio, in a sore afraid new world, they tried to break us, looks like they'll try again. Wild boys, never losing, wild boys, never chose this way.